Il manual è una base importante per molti move sulla bici, però non è così semplice. Con il manual riesci a sollevare la ruota anteriore grazie ad una trazione energica delle braccia sul manubrio. È importante il timing tra impulso delle braccia e delle gambe. Quando sollevi il manubrio, spingiti all'indietro con le braccia tese e le spalle. Così porti il baricentro del corpo sulla ruota posteriore. Adesso è importante trovare lo sweet spot, la posizione nella quale non cadi né in avanti né indietro. Quando trovi quel punto, allora puoi controllare l'equilibrio con un buon mix tra frenata e posizione del corpo.